Un ospedale. In questo ospedale vivo io. Sono quello che dorme. Dormo ad otto mesi. Ciao Rocco. Buongiorno. Buongiorno Leo. Sta male, ti ho portato una sorpresa. Io mi chiamo Leo. Io vado. Mi chiamo io appena esco, ok? Ciao. Che c'è? Buongiorno. Ma niente, nessuno ha girato un po' la testa, ma adesso sto bene, me ne posso andare? Fermo, dottor Raus. Tu stai buono, io ti faccio. Tu lo sai perché sono qui io? Per visitarmi? No. Per chiederti perché eri su quella moto prima che te lo chieda la polizia. Qui non abbiamo i nostri gruppi di amici. Dovremo provare a formarne uno. In ogni gruppo ci sono sempre sei tipi. Il leader, il bello, il furbo, l'imprescendibile, la ragazza e il vice leader. Abbiamo già il leader e il vice leader. Ora dobbiamo cercare gli altri. Cominciamo dalla ragazza. Andrebbe bene, no? Andrebbe bene, sì. Io sono Valentina. Ma per te facciamo vale. Chris, che a casa su ti chiamano Cristina. Ciao.